Benvenuti al nostro TG Sport. Cari amici di Telemolise, per il calcio di Serie D, grazie al blitz esterno di Pian Castagnaio, l'unico nella prima giornata della Pool Scudetto, il Campobasso ha messo le basi per raggiungere la semifinale. Domenica prossima allo Stadio Molinari arriva il Carpi. Bel successo dei Lupi in casa della Pianese. Ottima prestazione della squadra di Pergolizzi, capace di espugnare Pian Castagnaio, grazie alla rete messa a segno da Rasi. Prestazione spavalda di Rosso Blu, tante occasioni create senza concedere praticamente nulla agli avversari. Bella la marcatura realizzata grazie ad una rapida ripartenza sull'asse Rasi di Nardo, con il primo abile a spedire in rete un comodo assist del suo compagno di squadra. Spazio dal primo minuto per il centrocampista Sdaigui, unico volto nuovo nell'undici iniziale scelto dal tecnico Palermitano. Un successo che permette ai Lupi di giocare domenica al Molinari e non mercoledì la seconda gara del girone della Pool Scudetto contro il Carpi. Una manifestazione utile per continuare a nutrire la fame di calcio della piazza Campobassana in attesa della prossima stagione in Lega Pro. Grazie al successo contro la Pianese, i Lupi hanno ottime chance per superare il primo turno e accedere alle semifinali. Quello del rosso-blu è l'unico successo esterno della prima giornata della Pool nel gruppo A, vittoria casalinga del Caldiero Terme, 2-0 il finale contro il Chioggia. Mentre nel girone C, la Cavese, sempre tra le Muramiche, ha superato 1-0 l'Altamura, grazie alla rete di Felleka ad inizio ripresa. Per completezza di informazione, domani nel girone B, dove c'è il Campobasso, si giocherà la gara tra Carpi e Pianese. Ieri pomeriggio la Lega Pro ha aperto le porte della sua sede alle società neopromosse in Serie C. I rappresentanti di Alcione, Milano, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Cavese, Pianese, Altamura, Trapani e Union Clodiense sono stati ricevuti dal presidente Matteo Marani e dai vertici della Lega Pro, che hanno illustrato i regolamenti e le norme concernenti la partecipazione al campionato 2024-2025. Si è trattato inoltre di un'occasione importante per presentare tutto l'apparato interno alla Lega Pro, costituito da uffici e dipendenti pronti a collaborare con i club neopromossi. Capitolo Stadio Molinari, questa mattina il comune di Campobasso ha diramato un documento indirizzato alla prefettura avente ad oggetto una convocazione di un tavolo tecnico al fine di discutere della questione dell'agibilità dell'impianto sportivo. Tale richiesta ha un carattere d'urgenza perché strettamente connessa alla necessità del Campobasso di procedere all'iscrizione in Lega Pro. In settimana dovrebbe essere previsto l'incontro. La post-season procede anche nel girone F che ha visto l'impresa sportiva dei Lupi. Ebbene Riccione, nell'unico play-out in programma, ha superato in trasferta il Tivoli. 2-3 in finale, Emiliani salvi, Laziali in eccellenza in compagnia di Fanova, Sogirardi e Matese. Mentre per quanto riguarda i play-off, la finalissima si giocherà domenica tra l'Aquila e la San Benedettese. Allo stadio Gran Sasso è terminata 2-2 la sfida tra gli abruzzesi e Roma City. I padroni di casa avanti due volte con Banegas e Alessandro nei minuti finali, le reti dei Capitolini con Di Renzo e Ingretolli. Allo stadio dei Marzi, successo per la San Benedettese, le reti tutte nel primo quarto d'ora della ripresa. Vezzano avanti con Senesi, poi l'1-2 della Samb con Chiatante e Martinello. Due marcature che consentono ai marchigiani di giocare la finale play-off contro l'Aquila. Se vogliamo, l'epilogo più giusto, considerato che le due squadre nel corso della stagione sono state le vere antagoniste del Campobasso. Il successo sul campo della Pianese ha certificato l'ottimo stato di forma del Campobasso. La squadra di Bergolizzi ha offerto una prova di grande sostanza e qualità. Il tecnico Rosso-Blu è intervenuto a Domenica Sport. Continua a vincere il Campobasso? Continua a fare quello che deve fare perché la mentalità è quella che comunque, anche se abbiamo raggiunto l'obiettivo, ci sono altri obiettivi. Non è un obiettivo che uno deve dormire la notte, ma comunque è giusto rispettare tutti gli obiettivi e cercare di fare sempre le partite nella maniera giusta e soprattutto continuare con la mentalità giusta. Ecco, però ci hai confessato che probabilmente qualche notte non hai dormito, no? Sì, assolutamente. Non credo qualche notte. Più di qualche notte, sinceramente. Viva la sincerità, perché a te per strapparti una parola, veramente, fai bene, per carità. Perché a Campobasso, qui in studio c'è anche Carmelo Parpiglia, che è stata una delle glorie del Campobasso nei campionati di Serie C1, di Serie B. A Campobasso hanno fatto sempre benissimo gli allenatori quasi sordomuti. Insomma, io mi ricordo Pasinato, Mazzia. Insomma, quindi complimenti a te perché hai interpretato benissimo, secondo me, questo ruolo dell'allenatore del Campobasso quest'anno. Io credo che comunque l'allenatore, ognuno di noi all'interno della società ha un ruolo. L'allenatore credo che abbia quel ruolo. Già quando non fa danni, già ha fatto tanto. Quindi ecco, spero vincendo avevo fatto meno danni possibili. Quindi quello sicuramente vi fa piacere. Purtroppo, quando sei calciatore, pensi a te stesso e comunque alla prestazione. Quando fai l'allenatore, devi stare attento alla gestione dei giocatori, la gestione con la società, con tutti, con i tifosi. Quindi diventa una cosa molto più grande. Allora devi essere pronto comunque a avere l'atteggiamento giusto perché non dobbiamo dimenticare che comunque la priorità è anche il rispetto delle persone, ma anche il rispetto del lavoro altrui. Domenica prossima allora c'è il Carpi. Ovviamente siete partiti con il piede giusto in questa pool scudetto. Immagino l'obiettivo sia quello di continuare a onorarla a pieno questa competizione. Guarda, noi cercheremo di onorarla nel miglior modo possibile. Se poi mi chiedete se i ragazzi sono sul pezzo, vi dico abbastanza perché purtroppo con tutti questi festeggiamenti, con questa situazione, per l'allenatore diventa dura tenerli sulla strada giusta. Però ci proveremo e sono convinto che comunque quando acquisti la mentalità la prestazione la fai sempre. Però il risultato può essere diverso da come tu l'avevi preparata, ma la mentalità è sicuramente quella giusta. Marco Pulitano, la Spike si aggiudica anche l'ultima della regular season vincendo 3-0 contro l'Akli-Site-Roma. È una vittoria importante questa perché vi ha permesso di riconquistare la vetta del campionato. Sì, finalmente dopo tre anni di Serie B siamo primi. Quindi abbiamo vinto almeno la regular season. Ce l'aspettano i play-off. Siamo onorati di questo risultato. I ragazzi ce l'hanno messa tutta. È stato un campionato durissimo. Abbiamo avuto anche la Coppa Italia che abbiamo vinto, per cui siamo campioni d'Italia. Insomma, non si sono riposati mai. Il risultato secondo me è meritato. Adesso manca l'ultimo gradino prima del successo. Ecco, a Casoria torniamo indietro di qualche giorno. È arrivato il secondo stop di campionato. Quindi siamo dovuti giungere all'ultima poi. Avete tenuto tutti un po' con il fiato sospeso. Sì, ci può stare. Nel senso un po' inspiegabile, ma succede. Quindi i ragazzi erano forse un po' scarichi. Palestra molto grande per cui gli ambienti... Insomma, per questo sport conta molto anche l'ambiente in cui si gioca. Erano, secondo me, anche abbastanza stanchi dopo, nonostante il turno di riposo dopo la partita di Genzano. Un po' di deconcentrazione, perché bene o male si sapeva che la nostra avversaria aveva perso la settimana prima, quindi ancora di più si poteva immaginare di agguantare questo risultato e di rimanere primi in classifica. La dimostrazione è che non si deve mollare mai, perché non si può dare nulla per scontato, altrimenti le sorprese sono dietro l'angolo. Adesso ce la devono mettere tutta, ancora di più della Coppa Italia. Quindi io faccio un appello a tutti i campobassani, esattamente con lo stesso entusiasmo che vivono per tutti gli altri sport. Ci giochiamo la visibilità anche con questo sport a livello italiano. Il Campobasso merita, dopo questo campionato, di giocare in Serie A e abbiamo bisogno del supporto di tutto il pubblico campobassano. Sarà un po' come rivivere la Coppa Italia, perché le avversarie sono le stesse. Si partirà contro Grottaio e poi ci sarà Reggio Calabria. Stesse partite, per cui speriamo di duplicare questo successo. Ma abbiamo bisogno, come è successo con la Coppa Italia, anche di un altro giocatore che è il pubblico, come c'è stato per la Coppa Italia. Il bilancio è sicuramente positivo. Da presidente quanta soddisfazione c'è? Al di là del risultato che ovviamente fa piacere, La cosa bella è che, lo dico da sempre, il progetto sta andando avanti. Stiamo avendo finalmente anche i giovanili che stanno attirando ragazzi a frequentare questo sport. Anche paradossalmente il movimento degli over. Quindi il progetto era quello di riportare la pallavola ad alti livelli qui a Campobasso. Lo stiamo facendo, ci stiamo riuscendo. Grazie a tutti, ovviamente, sponsor, dimentico sempre di ringraziare tutti, staff. Tutto questo è davvero frutto di una squadra vincente. Ciclismo domani nell'undicesima tappa da Foiano di Val Fortore a Francavilla al mare di 203 km. Il Giro d'Italia attraverserà la nostra regione. La caravana rosa transiterà a Pietracatella, dove è previsto il Gran Premio della Montagna di terza categoria. Superata la salita, i corridori si sposteranno verso l'Abruzzo, attraversando Sant'Elia, Pianisi, Casa Calenda e Termoli. Un'occasione importante per i tanti appassionati delle due ruote che potranno vedere da vicino tanti campioni. In primis la maglia rosa Taddei Pogacar. Torniamo a parlare di calcio d'eccellenza. Il Campomarino ha festeggiato la permanenza in categoria grazie al successo nel play-out sul campo della Cliternina per il Rosso-Blu. La stagione si è chiusa nel migliore dei modi. Nelle Falco arriva una prestigiosa vittoria che vi permette di mantenere l'eccellenza. Come giudichi la prestazione della tua squadra? Abbiamo fatto una grande partita, ce la meritavamo, abbiamo sofferto tutto l'anno. È stata un'annata difficile per tutti, sotto tutti i punti di vista, ma non abbiamo mai mollato. Da settembre ci siamo presi questa grande soddisfazione, come ho detto prima, super meritata. Nel secondo tempo c'è stata quell'occasione incredibile con il tuo tiro, quel bolide che si è stampato sulla traversa. Ti è mancato solo il gol, hai fatto una grande partita. Ti ringrazio, sì. Peccato perché poteva essere un gol al di là, comunque bello e importante perché andavamo su 2-0 e sicuramente potevamo avere magari un secondo tempo più in discesa. Invece abbiamo dovuto soffrire fino alla fine, ma fa niente, l'importante è il risultato finale. Quando è arrivato il mister Precali c'è stato sicuramente un cambiamento sia nell'atteggiamento, proprio nella squadra in generale. Secondo te questo mantenimento di categoria può essere attribuito soprattutto a lui? Sì, sicuramente lui ci ha dato una scossa dal punto di vista emotivo, però mi va di ringraziare anche il mister Basso Donofrio, perché comunque anche lui ha fatto un buon percorso da agosto e purtroppo le cose non sono andate come dovevano andare. I responsabili siamo stati tutti, sicuramente lui, ma anche noi che andiamo in campo, la società, tutti. Quando le cose vanno male è la colpa di tutti. Poi è arrivato Precali e come ho detto sì, forse abbiamo avuto una scossa e poi abbiamo raggiunto l'obiettivo e siamo felici. A chi dedichi questa eccellenza, questo mantenimento di categoria? Lo dedico soprattutto a noi, al gruppo squadra, che veramente abbiamo sofferto dall'inizio alla fine. Noi in primis, ma poi sicuramente anche il mister, società, tifosi, tutti, la mia famiglia, tutti. Un grande traguardo e siamo tutti contentissimi. Calcio a 5 di serie a 2 Elite nella gara d'andata dei play-out. Il Cus Molise, avanti 3-0, è stato battuto 4-3 dal Capurso, al Pala Unimol. Nicola Delisio, allenatore in seconda del Celene Cus Molise. Arriva una sconfitta veramente amara, difficile da digerire. Due Cus, uno ottimo il primo tempo. Il primo tempo, che cosa è successo? Non lo so, devo essere sincero, il primo tempo è stato veramente bello. I ragazzi hanno giocato benissimo. Abbiamo avuto tante occasioni, anche per stare oltre al 3-0, potremmo farne altri. Purtroppo, da quanto notato, che sul 3-1 abbiamo subito il primo gol e siamo cominciati a sciogliere. Ciò significa che c'è una paura, quindi c'è un po' di debolezza mentale. E questo si è verificato durante tutto l'anno. Quindi probabilmente i ragazzi, che sono ragazzi, la maggior parte sono tutti giovani, non riescono a tenere la concentrazione e la pressione magari di una o due di questo livello, di una o due eliti di questo livello. Questa partita, possiamo dire, rassume veramente tutta la stagione, perché giocate bene, però i punti non arrivano. Esatto, diciamo, è lo specchio della nostra stagione. Addirittura stiamo vincendo 3-0. Potevamo fare pure il quarto e il quinto e ci ritroviamo ad analizzare una sconfitta. Sempre nel finale, ovviamente. Ma purtroppo è questo. I ragazzi, ripeto, hanno subito il gol e si sono fermati. Non hanno continuato a giocare, ne abbiamo subito altri. Abbiamo fatto un po' il gioco loro. E questo mi dispiace, mi dispiace soprattutto per loro, perché avevano dato tanto. Il primo tempo avevano giocato benissimo, non avevamo concesso niente. Una mara sconfitta. L'espulsione, diciamo, ha aggiungato ancora di più loro. Sicuramente. Qui devo dire una cosa, ovviamente, perché gli abiti non pensano che hanno gestito bene la partita. Anche loro, un giocatore loro, aveva toccato la palla con le mani, era ammonito e non è stato ammonito. Noi invece, il nostro giocatore, per doppia munizione, per tocco con le mani, è stato ammonito e poi espulso. Quindi, voglio dire, ci sono stati due pesi e due misure. La cosa ha influito anche sul risultato. L'ultima cosa, adesso c'è ancora il secondo atto, bisogna andare lì, bisogna cercare di vincere a meno con due reti. Difficile, però il Cusso lo può fare. Ci proveremo fino all'ultimo secondo, ovviamente. L'abbiamo dimostrato, nel senso che se vogliamo giocare, se ci vogliamo mettere il cuore, l'abbiamo dimostrato. Quindi andremo lì fino all'ultimo secondo per cercare di portare a casa la vittoria. Poi vedremo, insomma, voglio dire. Però non moleremo un centimetro. Campionato di promozione, Alditella di Vasto Girardi, il Montenero in rimonta, ha fatto solo spareggio contro il Baranello ed ha conquistato la promozione in eccellenza. Al termine del match, tutta la gioia del tecnico degli adriatici Sacchetti. Mister Vittorio Sacchetti, insomma, parto un po' da lontano. 365 giorni fa questa società si giocava il play-out per rimanere nel campionato di promozione. Dopo un anno si gioca lo spareggio e lo vince per accedere al campionato d'eccellenza. Vuol dire che di strada ne è stata fatta nel corso di un solo anno. Giustamente, come ha detto lei, di strada ne è stata fatta e di strada buona. Perché passare da giocarci i play-out e pareggiano al 97esimo e arrivare qua e andare in eccellenza è una cosa di straordinario. Che dire, la società ha fatto un grande sforzo quest'anno a mettermi a disposizione, una grande squadra, prima fatta di uomini e dopo di calciatori. Sono contentissimo, non so, c'ho l'emozione a mille. Assolutamente, insomma, l'hai vinta pur un po' con i cambi, no? Perché Pasciullo è entrato benissimo, ha fatto l'assist per il gol. Insomma, chi è entrato di pieto ha dato grande dinamismo al centro campo, anche secchi, insomma, vissuti. Davvero questo ha testimonianza che la rosa è profonda e soprattutto, insomma, tutti i ragazzi seri che si fanno trovare pronti al momento giusto. Ha centrato la dinamica di tutta la partita. Io non avevo a disposizione, ho convocato 25 giocatori, io non avevo a disposizione 11 giocatori. Io non avevo a disposizione 27, 28, dove tutti meritano di giocare. Ho dovuto scegliere gli 11, però sapevo che avevo a disposizione altri giocatori che mi potevano dare tanto. E così è stato. Una pausa va a tutti. Da qui è entrato, da chi non ha giocato, da chi sta a casa che non è potuto venire, a quelli che sono entrati che mi hanno fatto vincere la partita. Assolutamente, insomma, poi i mister vi hanno seguito in tanti, davvero il calore del pubblico è stato un'arma in più. Però, insomma, nel secondo tempo forse è stato l'episodio, la parata di Monaca su Venditti. Insomma, è stato importante perché lì, se fossi andati sotto 2-0, magari lo sai meglio di me, era complicato riprenderla. E' spatocco, perché Monaca si è infortunato durante il riscaldamento. Sì, la partita è anche grazie a lui che l'abbiamo portata fino al termine e l'abbiamo vinta. Andando 2-0 era difficilissimo, con grandissimo Baranello. Io, come ho detto all'intervista precedente, il calcio è ingiusto. Il calcio è ingiusto perché noi eravamo quattro squadre che lottavamo per questa eccellenza dalla prima all'ultima giornata. Il fatto dice che solo due devono salire, gli altri vanno a fare lo spareggio, però meritavamo tutti e quattro di andare in eccellenza. Però questo è il calcio, c'è chi vince e chi perde. Quest'anno è andata bene a noi, però devo fare un applauso al Baranello, che è una grandissima squadra, allenata da un grandissimo allenatore e fatta anche loro di grandi uomini, di esperienza. Vediamo Stefano Zullo che dopo i 40 anni ha fatto una grande partita, ci ha messo in difficoltà. Il Busso ha pareggiato in casa 2-2 contro il Morcone ed ha festeggiato la salvezza dopo i tempi supplementari, grazie al miglior piazzamento in classifica. Ne abbiamo parlato con l'allenatore in seconda. Stefano Potino, allenatore in seconda del Busso, un parigio dolce alla fine ma tanto sofferto. Quanto brucia aver dilapidato un po' quel 2-0? Sembrava ormai quasi fatta nei 90 minuti. Brucia no, nel senso che alla fine soltanto l'abbiamo portato a casa. Quello che volevamo siamo riusciti a portarlo a casa. Brucia più che altro è una sofferenza, è stata una sofferenza in mano per me, per il mister, per la squadra. Però siamo riusciti a ricompattarci, siamo riusciti a guardare con ottimismo i 30 minuti che mancavano e siamo riusciti a rimanere in promozione, cosa che dicevo da tempo perché ne diamo questa categoria. In virtù di questo risultato, qual è l'elogio più grande si sente di muovere a questo gruppo e anche al pubblico che è stato sempre numeroso e caloroso? L'elogio più grande è il fatto che non abbiamo mollato mai un centimetro. Anche quando gli allenamenti erano risicati, anche quando viaggiamo in acque non proprio limpide, il focus era sempre alto e volevamo a tutti i costi combattere sul campo per rimanere in promozione. Se posso, l'elogio più grande va il mister Martinelli, che è stato presentissimo con una voglia in mane e a cui penso che tutto a busso deve fare un monumento, me in primis, perché mi ha anche insegnato tanto. Poi sì, il pubblico è stato il pubblico delle grandi occasioni, non voglio scomodare paragoni importanti, però siamo contenti che il pubblico ci ha seguito e ci ha portato anche nel piccolo alla vittoria. Atletica a Potenza, dove si sono svolti i campionati italiani dei 10.000 metri, è arrivato un grande risultato per il Molise. La pittussina Letizia Dilisa, allenata da Andrea Piscopo, ha chiuso al terzo posto la gara con tanto di nuovo personale sulla distanza, grazie ad un crono di 33, 20 e 17. Un traguardo straordinario per la Molisana, che ha messo in evidenza il suo ottimo stato di forma. Prima categoria, girone A, con una gara ordinata e di qualità, il Sant'Angelo Limosano ha fatto suo il match contro la capolista Alife. Mister Manolo Sacco, per il Sant'Angelo Limosano una grande vittoria, fermate la capolista, continua una marcia interna da primato. Sì, assolutissimamente. Abbiamo fatto un primo tempo veramente imbeccabile, poi al secondo tempo si è sporcata la partita. Loro sono stati bravi a trovare il pareggio, però poi noi con una giocata individuale di Mirko D'Addario siamo stati bravi a rimetterla a posto, la partita. Io credo che alla fine la vittoria è meritata. È stato un antipasto di quella che sarà la finale di Molise Cup. Vi aspetterà un'altra partita, però avete dimostrato di poter giocare alla pari con tutti. Sicuramente la finale di Molise Cup sarà un'altra partita, perché nel calcio poi ogni partita ha la sua storia, però comunque noi ce la giocheremo ad armi pari, in maniera pure sfacciata, e cercheremo di portare un trofeo a casa. Non perdiamo d'occhio anche i play-off. Ci tenavamo a vincere perché ci giochiamo ancora alla terza posizione, quindi guardiamo avanti a questi ultimi impegni con ottimismo. Ecco, un finale di stagione che volete vivere da protagonisti, cosa vi aspetta? Ci aspetta innanzitutto la partita di domenica, dove sarà uno sconto diretto a Capriati contro il Desisto, una partita importante, e poi ci aspetta la semifinale di play-off, alla quale teniamo tanto, e poi pensiamo pure alla finale di Molise Cup. Il campionato e stagione in generale è molto positiva per voi, soddisfatto di quello che ti ha dato la squadra? Sì, sì, a fine stagione si fanno i bilanci. Noi abbiamo avuto un sacco di defezioni durante l'anno, però poi alla fine siamo la squadra che in casa ha totalizzato più punti, siamo una squadra che ha fatto 88 gol, siamo una squadra che sta in finale di Coppa, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti. Calcio giovanile continua la tradizione positiva per la polisportiva Santi Pietro e Paolo, che a Trivento ha conquistato il titolo regionale Under-15. Mister Mugnano, i suoi ragazzi hanno vinto contro il Capobasso FC Under-15, una grande soddisfazione. Una soddisfazione, un grandissimo gruppo. Sapevamo che la squadra che affrontavamo era difficile da affrontare perché era una buonissima squadra, ma noi contro tutti i pronosti, che contro tutti abbiamo vinto meritatamente questa partita. Dunque un applauso ai suoi ragazzi. Grandissimo, sono un gruppo grandissimi e gli devo dire immensamente grazie. Equitazione Paralimpica, il connubio Cip Molise e Inail ha regalato nuove emozioni. Domenica al circolo Ippoform di Oratino una ventina di atleti Inail si sono cimentati in attività a cavallo assistiti da istruttori specializzati. Una giornata che ha lasciato il segno negli atleti, ma anche negli organizzatori. Bene, è tutto. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.